La vaccinazione viaggia velocemente in Toscana e anche nell'ASL Toscana Sud-Est. Mancano però all'appello ancora un terzo degli ultrassessantenni. E così l'ASL insieme alla Regione ogni giorno cerca di trovare nuove iniziative per attrarre le persone che mancano ancora all'appello. È per questo in vista la Notte Bianca, un'idea del direttore sanitario Simona Dei, per cercare di attrarre non solo gli ultrassessantenni, ma anche le categorie dei ragazzi più giovani. Le vaccinazioni sono in atto e ogni giorno cambiamo un po' strategia. E la cambiamo in base alla risposta che abbiamo dalle vaccinazioni stesse. Siamo partiti con le prenotazioni, le prenotazioni a tutte le ore, le prenotazioni molto capillari. Nella Sud-Est c'è sempre stata una grande capillarità di sedi fin dal primo giorno. Abbiamo fatto un grande lavoro con i medici di famiglia che hanno portato a una copertura degli ultrassantenni maggiore e più rapida rispetto anche a altre zone della Toscana. E adesso dobbiamo trovare delle situazioni che vanno incontro alle fasce di età diverse.